buongiorno a tutti in questo video tutorial ci occuperemo del rimontaggio del carrello longitudinale del tornio enco maximat super 11 questo carrello è quello che si occupa di spostare gli attrezzi lungo l'asse del tornio come al solito mi aiuterò con il manuale delle parti di ricambio originale così da avere sotto controllo l'elenco di tutti i pezzi necessari il primo pezzo da montare è l'alberino che vediamo nel video nel mio caso questo ingranaggio che va inserito all'interno di questo foro l'uso e la mancata lubrificazione lo hanno consumato in modo irregolare era diventato a forma conica perciò dondolava in modo eccessivo quasi 3 mm perciò è stato necessario correggere il foro con una boccola di bronzo e successivamente ho tornito l'albero in modo che tornasse un cilindro perfetto la maggiore dimensione dell'ingranaggio non ha creato problemi di dimensioni per il montaggio procediamo a lubrificare l'albero durante l'uso verrà lubrificato da questo foro che è connesso agli oliatori sul carro principale procediamo ad inserire l'albero nel foro dall'interno della scatola tenendolo parallelo al bordo anteriore poi puoi spingerlo verso l'interno in precedenza questo ingranaggio dondolava in modo eccessivo lateralmente ora invece grazie alla boccola la tornitura gira perfettamente senza alcun gioco questo ingranaggio è tenuto in posizione da un perno filettato inserirlo nella propria sede così che questo non possa più uscire avvitiamo il perno fino a fine corsa e comunque sotto il livello del piano poiché in alternativa non sarebbe possibile rimontarlo sotto il carro principale il secondo pezzo da montare è l'albero che tramite il volantino anteriore controlla lo spostamento di tutto il carro purtroppo anche questo pezzo si è lavorizzato con l'uso è stato perciò necessario tornire l'albero e creare una boccola in bronzo così da eliminare il gioco che si era creato lubrifichiamo l'albero così da permettere lo scorrimento nella propria sede questo albero va montato dall'esterno inseriamo nel foro e spingiamo fino a fine corsa i diversi diametri lo bloccheranno in posizione permetterà la rotazione dell'ingranaggio precedente anche qui grazie alla boccola e alla tornitura è scopparso completamente il gioco questo perno è tenuto in posizione semplicemente da un tappo lo scopo è solo quello di non farlo uscire perché sarà tenuto al suo posto dal volantino anteriore per il montaggio del tappo metterlo in posizione e con un martello di rame spingerlo in sede come si può vedere ora il perno è bloccato dal suo tappo posteriore ora passiamo al montaggio di questo ingranaggio e di quest'altro la sequenza prevede di montare prima quello più corto che va inserito sul retro consiglio di ingrassarlo in questa fase poiché sarebbe impossibile farlo successivamente rimane chiuso all'interno della scatola per ingrassarlo uso del grasso al litio per ingranaggi cosporgiamo di grasso l'ingranaggio così da coprirlo completamente inseriamo l'ingranaggio nella direzione mostrata nel video dal lato opposto la rondella sagomata e blocchiamo tutto il gruppo con il sieger a molla la sua controparte che trasferisce il movimento dell'asse esagonale permette di muovere il carrello trasversale longitudinale la ingrassiamo nella parte finale perché il resto dell'ingranaggio è raggiungibile come in precedenza ingrassiamo bene la parte elicoidale spalmando bene il grasso in tutte le sue parti inseriamo nel foro centrale frontale il nostro ingranaggio facciamolo scorrere fino in fondo e per innestarlo correttamente facciamolo ruotare leggermente ruotiamo il carro e inseriamo la rondella sagomata in sede poi blocchiamola con il sieger a molla procediamo con il montaggio dei leveraggi di ingaggio della vite senza fine e del movimento longitudinale per questa operazione armiamoci di pazienza poiché bisogna inserire due sfere e una molla nella sede del leveraggio prepariamo il pezzo squadrato con le due viti il blocco cilindrico e la leva come si vede nel video la leva da inserire a un senso deve essere infilato nella parte più larga insieme alla sua molla in ogni caso dall'altro lato non passerebbe verificare perciò il corretto inserimento lubrifichiamo il leveraggio così da farlo scorrere meglio prima di inserire la leva nel cilindro occorre inserire la molla poi inseriamo il tutto nel foro del cilindro per non fare più uscire il perno utilizziamo la sua leva filettata di plastica e avvettiamola fino in fondo ora viene la parte divertente bisogna inserire il gruppo nel foro laterale e poi tenerlo in posizione fissando il blocchetto squadrato con le due viti laterali la parte divertente è quella di dover infilare in questo foro due sfere laterali con una molla in mezzo che vanno incastrate all'interno della leva non è difficile ma ci vuole molta pazienza prendiamo il cilindro ingrassiamo bene l'albero in tutte le sue parti sia davanti che dietro perché dopo sarebbe molto scomodo farlo prendiamo la molla e infiliamola nel foro inseriamo prima una sfera e poi l'altra teniamo l'imposizione con le dita poi tiriamo la leva fino a farla entrare al suo interno ora teniamo in tensione la molla tramite la leva e il pollice con il blocchetto quadrato spingere il tutto nel foro utilizzando le due viti fissiamo il blocco al carrello una volta puntate le viti le sfere rimarranno in sede ora possiamo serrare le due viti e a questo punto possiamo stringerle definitivamente passiamo al cilindro di azionamento dei blocchi per la vite senza fine per fare un po di sforzo bisogna inserire una molla ricurva nella sede del cilindro premiamola con il dito e inseriamo il cilindro nel foro fino a filo della parete posteriore mettiamo in questa posizione le guide sagomate nel cilindro inseriamo i due blocchi di ingaggio della vite senza fine così come si vede nel video inseriamo le guide laterali nell'incavo dei due blocchetti puntiamo le viti prima le due di destra e successivamente le due di sinistra queste due guide terranno in posizione i blocchetti e permetteranno lo scorrimento degli stessi stringere tutti e quattro i bulloni e serrarli definitivamente inseriamo il grano per la regolazione della spinta laterale delle due guide avvitiamo fino a contatto della guida di destra facciamo la stessa cosa con il grano di tenuta del cilindro stringiamo fino a battuta completa così da tenere il cilindro in posizione i due cilindri appena montati funzionano anche da blocco di sicurezza quando è innestato il movimento per la vita senza fine non ci sarà alcuna possibilità di inserire i movimenti tramite la barra esagonale al contrario una volta disinserito il movimento per la vita senza fine sarà possibile innestare i due movimenti tramite la barra esagonale passiamo al montaggio dell'ultimo ingranaggio del suo albero attenzione nella prima parte del video si vede l'ingranaggio montato al contrario e successivamente si vede il montaggio corretto la parte con la sede per il blocchetto va montato verso la parete esterna inserire il blocchetto di ottone nel perno sporgente del cilindro appoggiamo la sede dell'ingranaggio nel blocchetto spingiamo l'albero dal retro nella sede dell'ingranaggio e poi sino in fondo aiutandoci con un martello nel caso sia necessario ora utilizziamo il grano a punta per bloccare l'albero in sede definitivamente avvitiamolo fino a battuta completa attenzione da questo momento si vedrà l'ingranaggio montato in modo corretto procediamo con l'ingrassare bene tutti gli ingranaggi all'interno della scatola e verifichiamo che si muovano senza alcun impedimento ove necessario aggiungere del grasso per terminare montiamo il volantino di manovra tra la scatola del volantino è installata una guarnizione di acciaio rettificato nel mio caso ne inserirò due di spessore adeguato in modo che il volantino rimanga un po' più distante come si può vedere per l'uso prolungato nella mia scatola si è fatta una sede della profondità di circa di due decimi che cercherò di correggere con un maggiore spessore delle rondelle aggiungo la prima rondella e poi la seconda poi inserisco la chiavetta nella sua sede per ultimo inserisco il volantino centrando la sede della chiavetta aiutandomi con un cacciavite tengo in posizione la chiavetta appoggio il volantino e poi lo spingo in posizione montare la rondella spessa e il suo dado autobloccante serrare fino a quando il volantino gira liberamente senza gioco verificare che tutto si muova correttamente e senza impedimenti abbiamo terminato la scatola è pronta per essere rimontata al suo posto spero che il video possa esserti stato utile arrivederci al prossimo e grazie per la visione grazie per la visione